Ciao a tutti, sono Lucrezia Ottonello, responsabile del punto vendita GECASA di Finale Ligure e sono specializzata nella compravendita immobiliare residenziale. Oggi ci troviamo a Calice Ligure per mostrarvi un'ottima opportunità immobiliare. Si tratta infatti di un ampio appartamento con soggiorno, due camere, cucina, bagno, terrazza, box auto, cantina, sottotetto e mansarda. Vi aspetto all'interno. Eccoci nel grande salone dove trascorrere i tuoi momenti speciali. Alle mie spalle trovate la cucina separata, ideale per nascondere il caos quando avete degli amici a cena. Dall'ampio soggiorno si accede a una meravigliosa terrazza panoramica, ideale per goderti delle serate con i tuoi amici. Entriamo ora nella zona notte dove troviamo due camere da letto matrimoniali, un bagno finestrato e qui sopra una bottola con accesso tramite scala interna che ci collega al sottotetto che al momento è allo stato grezzo ma ha una metratura pensate grande quanto tutta l'abitazione. Ora mi trovo in una delle due stanze da letto ma la chicca interessante è che da una di queste due camere c'è una vista particolare. Siamo infatti direttamente affacciati sulla rocca di Perti. Appena fuori la porta di casa troviamo un locale massardato molto ampio di proprietà esclusiva. Se vuoi avere qualche informazione in più rispetto all'appartamento che ti ho appena mostrato chiama il numero che trovi qui sotto. Se invece anche tu devi vendere casa a Finale Ligure e o nel suo introterra clicca il link che trovi qua. Grazie a tutti.